salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di minecraft del progetto sottra bene cosa facciamo oggi andiamo un po avanti con la playlist così vi spiego vi faccio vedere quello che avevo in mente di fare allora cosa facciamo dobbiamo fare un po di cose allora io ho preparato due tre cosine qua allora prima di tutto gli ancor che avevo detto come si fanno si fanno con due certus o un pezzo di iron due stick cosa serve questo servirà per fare le fasate si fanno così allora con gli ancor gli ancor come si fanno si fanno con qualsiasi cosa noi abbiamo in questo caso io prendo il ferro non è importanza ne facciamo ne facciamo ne facciamo pacchini ma ci ne frega l'axia ma così va benissimo ma 24 te lo so contarlo sono tutti e adesso facciamo così una bella croce e facciamo le fasate di questo possiamo fare un po di tutte quella parte sapevo che ce n'erano tante forse erano tante perché effettivamente andava a prendere 80 50 milioni di pagine allora forse erano tante aveva fatto bene va bene facciamo così sono facciate sono fasate eccoci qua ovviamente io non so contare perché io non so mai contare ed è sempre così e vabbè non mai ah poi non bastavano neanche quindi insomma chiaro no ok facciamo così così e da vicino anche voi tu perfetto allora cosa facciamo guardate io fate mi fa piacere tac c'è mai cosa ho fatto c'è mai cosa ho fatto vedete è una figata così allora possiamo fare un po come vogliamo sono facciate e noi lo chiediamo adesso vedete così è bello a me piace io sono soddisfatto ecco qua facciata così andiamo a coprire i cavi non li vediamo dai vuole fasate della conduit dell'endereo e queste qua direi che è abbastanza complementare la cosa qui mettiamo quelle dell'endereo così faccio tutto l'apparee dai metto a posto è pieno piano dai sì e questa è una cosa spiegata depenniamo anche questa allora la roba dell'apparee ho detto che la voglio mettere tutte in un punto così in una cella siamo a posto penso che possa andare bene così poi cosa facciogniamo facciogniamo questo qua che era ora farlo io ho fatto il piccione a piccicurso il piccione che sappiamo già come si fa non sto a farlo rivedere è quello di minecraft base quindi insomma nel senso non è cambiato quello ne voglio fare perché conto che io non so contare non lo so me lo chiedo sempre anch'io va bene facciamo tre che cos'è questo è quello che ci permetterà di poter finalmente avere accesso a i magazzini tutti separati che abbiamo questo questo quello tutta la roba sparsa che quella questa che abbiamo in giro in un unico punto che cosa bella direte è sì è più è riuscire a farlo in tempi brevi allora vediamo un po di spiegarlo al meglio che posso sto pensando che c'era qualcosa che mi serviva che non ricordo dove ho messo e la troverò mai secondo me no può darsi qua era qua ho il controllo slave abbiamo già fatto episodi primissimi episodi per farla questa come che si fa così ve l'ho fatto già vedere è la stessa cosa che fa il joven controller a parte il fatto che può essere invece darvi accesso solo tramite cavi invece dove controllo tramite manella vuota piena di item che poi mandano dentro e si connessi con i rover attaccati a lui e comunque sia adesso facciamo il collegamento di questo allora sto pensando che devo fare anche auto crafting io potrei mettere in un punto dove non da fastidio a nessuno come facciamo a fare così facciamo semplicemente che lo mettiamo sotto ok perfetto ok a posto io adesso mettessi questo qua lui lo vede tutto dovrebbe essere massimo 64 di se non hanno cambiato è 64 per 64 quindi comunque sono due quattro sei otto è più di e meno di 64 facciamo così se non la figlio più io non so contare lo so adesso ci dobbiamo connettere dei cavi ok i cavi li abbiamo perché ne ho fatti così tanti perché sapevo che servivano tanti sto pensando che per me 64 è inutile che conto lo sapete che te lo so scontare vabbè andiamo pure a vedere più o meno la linea d'aria ci siamo quasi oh porca vacca che succhiata aspetta un attico va faccio una succhiata da panico eh insomma bisogna dirgelo allora mettiamo via tutta questa roba va che li ho succhiato tutto quanto ferro ho trovato ha succhiato insomma nel senso altra roba non c'è più niente eh meno male perché insomma mi preoccupavo allora andiamo qua qua e qua e ce la faccia ciò sa farà no e adesso ovviamente potremmo passare di che facevo prima era più o meno qua ok allora qua possiamo chiudere la chiudo dopo ci mettiamo i cavi ok e adesso ci mettiamo questo possiamo fare anche prima uguale eccolo qua ok adesso cerchiamo di andare abbastanza di qua ma comunque devo curvare quindi o che curvo qua che curvo la è chiaro no poi l'italiano allora in teoria ho fatto bene ci servono gli anchor allora se io lo metto qua così vi spiego anche come funziona l'anchor ok lui l'ha connesso sia qua che là ok però se io volessi fare una cosa di vera dico no non voglio che ti guardate i due posti che a parte che è rosso non so perché mi ha ciucciato l'energia devo guardare dopo perché allora noi usiamo l'anchor che era che ovviamente io l'anchor non l'ho messo a posto eh vabbè ce l'ho messo a posto e quindi non posso fare vedere c'è mai scattimento del buco eh vabbè così allora l'anchor l'anchor è un separa anche cavi oltre a fare il fasad ok quindi se io mettessi tipo un ancor qui così e ci mettessi un tubo un cavo cioè scusate vedete lui non si connette a questo ovviamente però dopo non posso comunque usarlo eh perché eh non me lo fa usare questa facciata quindi non ho più usato questo che comunque la facciata non la userei userei quella vabbè comunque adesso ve l'ho fatto vedere eh è uguale non ha importanza dopo troverò un metodo eh per usare anche questo va bene adesso facciamo così facciamo così allora questo è un cavo dell'applied limitato a quattro cinque canali rispetto a quell'altro che ne faceva 32 ma a noi non ci interessa che ne faccia tanti questo e quindi andiamo tranquillamente a metterli dovevo arrivare mi ricordo più scusate dovevo arrivare ecco ovviamente ho preso la parte sbagliata ma porca vacca e dove cacchio dovevo andare mi sono perso di nuovo di là dovevo andare non andava bene come ho fatto scusate devo andare di qua ok e qua ok perfetto quindi andiamo il filone di dritto qua perché ho fatto questo perché era meglio far così eh vabbè ci vuole pazienza che ci volete fa sono fatto così mi prendete per come sono e vabbè è andata qua e vabbè dopo metto a posto dai scusate ma mi sono fatto prendere la panica ok perfetto ottico benissico ci siamo quasi qui veniamo di qua vai benissico ci siamo quasi cominciamo a collegare i cavi ottico ecco qua adesso è connesso all'applied togliamo sto brobbio arrivo subito eccovi qua ho messo a posto sotto che ho tolto il cavo di più che c'era facciamo meglio che meglio adesso in teoria a livello teorico dovrebbe essere connesso il magazzino lo vede tutto quanto quindi possiamo accedervi ai posti adibiti quindi quando noi andremo a mettere tipo questo qua che ho preso lo vado a mettere il magazzino là lui me lo metterà qui dentro vediamo se è vero facciamo una provola togliamo tutto quanto perfetto e andiamo a vedere vedere esatto vedete noi vediamo quello direttamente ha fatto il gesto con la mano e se io facessi così lui lo metterò dentro ok quindi facciamo una prova generale se io andassi a prendere questo e mettessi le celle dove era la prima questa e queste qua lui non dovrebbe assolutamente usare quella in teoria quindi vediamo ho messo dentro e andiamo a prendere le celle qui 00 e qui è 24 andiamo pure a vedere se è vero non ho detto una cacata vedete non c'è quella che io ho preso e ho messo nel magazzino l'ha messo lui direttamente là perché si ricordava che lì c'era qualcosa di adibito è dato a metterlo è una cosa meravigliosa fantastica ecco qua ce l'abbiamo fatta perfetto quindi noi adesso abbiamo tante 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 cose di cui abbiamo accesso a molte di queste cose perché l'ho fatto qua perché ho là che dopo collegherò e mi andrà a fare l'autoshifter così in automatico con l'autocrafting io gli dirò di farmi direttamente quello che ci serve che andrà direttamente la andare a far la roba e ci tornerà dietro già fatta bene figata senza fine detta così si farà un pochino più complicata però è già qualcosa e siamo già a cavallo poi questo qua è fatto adesso andiamo a vedere cos'è l'import e le sport bus andiamo a farli così ve li spiego e andiamo a vedere un po' allora questo si fa così facilo abbiamo già fatto i solite cose che abbiamo fatto lo scorso episodio e questo qua si fa così facilo vai ok allora abbiamo detto che questo qui importerà nel sistema e questo qui si porterà dal sistema ok allora quindi se io voglio importare qualcosa nel sistema e vi faccio vedere come non so se è compatibile questo non lo so è un bel problema quindi facciamo una prova veloce io adesso tolgo tutto quanto qua e adesso solo la giusto ok se io prendessi attiviamo il gettone questo che c'è tanta roba facciamo una prova diversa va che così non sono tranquillo ok mettiamoci qua ah c'era già della roba qua pensate che si ricordava per carità va bene non c'è problema lo prendo un attico grazie lo metto qua un attico giusto per far sì che sia collegato al sistema così almeno ci colleghiamo ok perfetto io adesso metto un cavo e il l'esportatore allora questo qui importa nel sistema quindi perfetto è collegato e ci metto il cavo ok perché tu l'ho connesso perché tu l'ho connesso perché sono pirla ovviamente lo sanno tutti mi serve il conduit no questo è poca vacca dove è il conduit eccolo qua questo perché quel cavo energetico ovviamente non 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 va bene ok extract e qua insert allora fatemi vedere perché con la fasata non va ok scusate era così mi sono confuso un attimo devo attaccarlo nel in quello che dovrà andare nel sistema quindi lo attacco se fosse forse un accesso uguale attacco questo e importatore direttamente da dove voglio che venga importato c'è dal dalla cassa dal contenitore eccetera e lo attacco tramite cavi all'apply ok adesso in teoria esatto vedete si sta svuotando lui sta ciucciando a meno che non mettiamo un filtro e dopo si fa da qua mettiamo un filtro un acceleration card che si mettono qua importando piano piano unitemi alla volta perché se vedete sta mettendolo dentro dove lo sta mettendo in qualcosa di vuoto voi direte cosa è una domanda a cui non ho risposta io lo so invece qua esatto perché io voglio essere dei drover liberi e lui lo sta mettendo qua tranquillamente e non mi dispiace come così mi dispiace mi fa proprio caccare però era per vedere se funzionava è giusto questo ok e funziona quindi questa qui è come funziona l'import bus cioè vuol dire importa nel sistema quello che a cui esso è connesso che può essere una cassa una chest un drover un qualsiasi cosa non gli attacchiamo questo import a appunto uno di queste cose qui con il cavo collegato direttamente al sistema lui andrà a importare quello che c'è dentro a meno che non glielo diciamo con un filtro cosa specificamente mettere o non e questo è l'import ok e questo è spiegato l'aveva tolto tutto e sicuramente aveva messo anche il resto perché vedo pochi cavi infatti vedere sì sì lui c'è tutto piano piano fa tutto ok perfetto e questo è spiegato posso lasciare quello così è più facile anche spiegare allora rimetto questa è la soul dust che cazzo faceva la soul dust già mi ricordo più perché voglio capire se l'ho messo ah l'avevo fatto per quello è per fare questo che poi serviva per fare il soul ingotto che dopo serviva per fare la spadina sì non ci serve un cazzo adesso posso anche metterla via che adesso non mi serve niente questo è solo un cazzo nassen ok mettiamola via che siamo a posto allora i cavi 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 adesso troverò un loco e questo qui ce l'abbiamo vuoto che per carità buonissimo e mi servirà parecchio ho fatto una fatica a farlo lo voglio tenere allora dobbiamo spiegare adesso l'esport che questo questo qui esporterà direttamente dal sistema qualcosa dentro adesso io metto un drover per sicurezza così siamo a posto e vi spiego meglio allora prendiamo un drover e qua quindi se faccio ad esempio il sistema che noi abbiamo di là oddio cucciata atomica cosa ho preso l'esperienza e basta va bene adesso io volessi togliere dal sistema senza cioè tipo avrei un sistema che secondo me non va bene una cella ad esempio che c'è tutta bondezza che vorrei mettere in una cassa a posto e non ciò vuole di spingere qua 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 due maroni dico c'è una cella solo in questo momento c'è collegato quello è uguale e gli metto l'esportatore allora gli mettiamo un di questi qua il drover gli mettiamo l'esportatore ok perfetto e gli mettiamo il cavo associato perfetto andiamo a fare porca vacca c'è sempre il solito insomma se l'ho fatto così andiamo qua e qua che cazzo ha fatto oh mi si è spostato all'autera scusate ecco qua perfetto adesso lui in teoria doveva funzionare a livello teorico doveva funzionare però non funziona perché tu non funziona ok non funzionava perché dovevo dirgli nel filtro cosa deve importare perché solo che cazzo sa cosa importava ovviamente ha ragione anche lui io pensavo portasse ok non c'è problema quindi li facciamo da capo scusate devo fare mentre lo calo ma è fatica noi avevamo messo l'importo li mettiamo qua e lui grazie al filtro metterà solo quello ok quindi dobbiamo cliccare qui mettergli cosa voglio mettere se no lui non importa un cazzo di niente capito capite è giusto quello quindi se io ho qualcosa che voglio togliere in grande quantità metto in un rubario infinito posso farlo e dopo lo ricollego al sistema e ho spostato e liberato delle celle che magari possono dividere altre cose ed è una cosa molto interessante non è da sottovalutare scusate se ho fatto piccolo errore ma ho ripreso l'enza non so cosa voglio dire però comunque si ve l'ho spiegato capite quindi ricapitolando questo è un esportatore che permette di togliere dal sistema e mettere in un loco che noi vorremmo per far ciò lo colleghiamo al loco e al sistema e tramite il click destro nel esport bus gli diciamo che cosa deve togliere in quel momento qua ci andrà un'acceleration card e lui lo farà prenderà dal sistema tutto ciò che è connesso nel sistema quell'item che noi gli abbiamo detto se lo trova lo prende e lo mette nel loco che noi desiderato gli abbiamo dovuto mettere il adesso connesso questo cosa inversa invece con l'import mettiamo il luogo cui vogliamo togliere un'attività item e metterlo collegandolo al sistema gli diremo che lui prenderà tutto ciò che c'è lì e lo porterà nel sistema a meno che col filtro qua non gli diciamo cosa purtroppo è così import funziona in un modo l'esporto in un altro però comunque funzionano così basta questo è il loro è il loro funzionamento quindi basta così è fatto ed è molto importante sapere queste cose perché possono aiutare parecchio e risparmiare molto molto tempo ok scusate se avevo un attimo perso ma fatica ricordarsi tutto comunque ve l'ho spiegato questo è l'importante adesso che tolti queste due cose che abbiamo spiegato cosa c'è rimasto tanto 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 questa mod è molto bella ma anche molto complessa nel senso che c'è molta roba ma piano piano cercherò di spiegarvi senza perderne c'è da fare a qui c'è un'estensione di questa mod che è un dipende dalle versioni c'è a due staff si chiamano alcuni in quelli pack a due qualcosa del genere insomma non si chiamano tutti tutti uguali però fanno sempre le stesse cose è un'estensione perché l'apply normale permette solo di fare un 64k che è tanto però con l'estensione si può arrivare a una cifra esagerata che è la cosa più bella secondo me c'è la versione item la versione fluid che è la versione gas adesso qui le chiede tutte le faccio però fluid e gas per adesso non ci servono quindi se ci serviranno vi farò vedere come utilizzarle ma adesso non ci servono in questo momento di fase di gioco qua e quindi le faccio però non comunque la base è la stessa c'è una volta che si è capito come fare usare queste è la stessa cosa per quella sono sempre c'era di magazzinamento solo che uno fa solidi liquidi e gas basta tutto qua va bene ragazzi spero di esservi stato utile di aver spiegato adeguatamente bene insomma diciamo di aver fatto di aver fatto capire l'importante sarei contento un po le basi di questo di questa bellissima mod io vi rimando come solito al prossimo video invitandovi a lasciare un like e commento se ti piace la serie di farmi sapere cosa è il pensato per il saluto sotto la cima ciao ciao